partiamo con il monologo partiamo con il monologo vigilia vigilia e bayern l'everkusen roma ho ascoltato adesso finito di ascoltare adesso la conferenza stampa di daniele derosci e vi devo dire vi devo confidare una cosa io sto con lui sto con lui nel senso che mi voglio affidare a lui io ieri l'altro ieri l'altro ieri ancora ho detto ragazzi andrei la comunque cercherei di non prendere imbarcate cercherei di comunque risparmiarmi per adalanta roma però siccome io voglio troppo bene a daniele derosci siccome vedo nei suoi occhi la voglia di tentarci la voglia di crederci siccome so che tutti i ragazzi ci credono ci vogliono provare a questo punto è giusto affidarsi a chi vuole la bene la roma come noi a daniele derosci se lui ci vuole approvare è giusto così poi magari non ci riesce non ci riusciamo e poi vediamo con l'atalanta quello che succede però a sto punto a sto punto sono arrivato anche io a pensare che come va va una partita per volta domani giocamose sta partita cerchiamo da andare in finale e poi cerchiamo da finale giochiamoci questa partita quello che sarà sarà e poi pensiamo all'atalanta anche perché se i ragazzi ci credono se daniele derosci ci crede se la curva sud che oggi fa quello striscione di carica ci vuole credere a sta partita e io ragazzi io faccio comunicazione mi metto qui dico no a mia io perché farei però io mi fido di me voglio affidarsi a squadra quello che succede succede spero solo di non prendere imbarcate ma quello che succede qualsiasi risultato lo accetto secondo me la roma non deve fare una strategia di attaccare senza logica per cercare di fare tre gol subito la roma deve giocare una partita come secondo me è io dico la mia come se fosse zero 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 e vediamo vediamo quello che succede non deve fare una partita troppo difensiva ma non deve fare una partita troppo offensiva deve fare la sua partita poi se trova il gol ci sono 90 minuti ci sono i calci da fermo i calcio d'angoli la roma è forte sui calci d'angolo più forte del bayern leverkusen in fase offensiva la roma fa paura dagli anni precedenti con murigno ha anche stanno con daniele derosci c'è tempo e perciò facciamo la nostra partita di bala da quello che ho capito in daniele derosci forse me sbaglierò ma secondo me non lo mette subito intanto ringrazio subito chef bruno grazie mille chef bruno grazie chef bruno che regala cinque sab al canale grazie mille per me che supporto bello mio e alla fine ragazzi io penso che di bala non lo fa giocare dall'inizio anche perché di bala un rigorista specialista non ai 120 minuti e perciò ho visto che magari se la roma fa un 1 3 un 0 2 perché no può pure finire ai calci di rigore se lo gioca magari il secondo tempo questa è la mia è la mia visione però io credo che di bala andrà all'everkusan e partirà dalla panchina formazione per il resto non so proprio che cosa dirvi lui lo ha specificato metterà in campo la migliore formazione possibile e daniele derosci daniele derosci ci crede perciò ragazzi forza e domani tutti insieme cercheremo l'abbiamo detto di stare insieme io e asso insieme a tutti quanti voi per questa partita importante che vedere la squadra che poi fa la sbracciolata l'altro giorno la braciata vedere la squadra così tenerci a a questa qualificazione a questa vittoria ragazzi alla fine noi siamo tifosi che sogniamo anche sul calcio mercato è giusto sognare anche sul campo nel calcio tutto è possibile anche se io veramente ragazzi do l'1 per cento della roma che possa passare il turno io do l'1 per cento sono sincero ma un 1 per cento io lo do e lo devo votare perché nel calcio può succedere tutto è quello un per cento può cambiare tutto perché poi basta un singolo episodio con una palla sferica che rotola a mezzo al campo che te può cambiare esorti della partita un episodio che fa favorevole che può cambiare la partita perciò ragazzi io vedere daniele dei rossi così con quegli occhi con quella voglia con quella cosa poi pensiamo all'atalanta ma adesso giusto pensare bayern leverkusen ci leviamo sto dente se sono più forti complimenti speriamo solo che non fa danni clamorosi ma io sono sicuro caro ma danni clamorosi non li fa perché quando la roma parte sfavorita così quando la roma sta sul pezzo la roma che magari può essere anche risentita da loro che hanno già fatto il postare che stanno in finale da una roma la roma è una squadra che poi alla fine ti può anche ti può anche fare delle sorprese perché io sono cresciuto da ragazzino con questo slogan con questo motto chi è dell'epoca mia chi è dell'età mia chi è più giovane di me è cresciuto sul motto a roma è magica la magica roma proprio perché c'è sta una sorta di magia nella roma e questa magia è la magia che magari nel bene ci ha fatto fare delle rimonte clamorose vedi roma barcellona nel male ci ha fatto prendere anche delle imbarcate clamorose e lo sappiamo tutti però che la roma è magica è vero è dalla vita e tante volte il meglio di sé la roma l'ha dato proprio partendo da spavorita perciò ragazzi forza roma forza roma questo è il momento di di forza roma e vediamo quello che succede qualsiasi cosa che succede per me a andrà bene a me a meno che non che abbiamo prendiamo clamorose goleate andrà bene perché comunque era giusto era giusto provarci se i ragazzi e l'allenatore ci credono loro loro lo devono fare se sia una cosa che fa stare bene al gruppo lo devono fare poi vediamo con la tanta se succede se magari la partita di domani sarà decisiva in negativo per la partita con la tanta vedremo dopo poi ragazzi su giosè murigno vorrei dire solo una cosa è un'altra volta prima di una partita importante riparli di noi sei un tesserato della roma e parli dicendo anche che hai sbagliato dovevi accettare il portogallo forse a rimanere a roma ma nessuno ti ha obbligato io credo che i frecchi che facevano un favore da poco gli facevi 50 favori da poco sei voluto rimanere perché avevi la dispensa papale sei venuto a rimanere per i cazzi tuoi per i cazzi due personali sei voluto rimanere perché forse il portogallo è una nazione e comunque non ti dà modo di allenarla tutti i giorni come un club e tu sei uno che vuoi allenare tutti i giorni adesso ti stai attacca di nuovo al portogallo perché credo che un'offerta sul tavolo non ti è arrivata e questa è una domanda devi farti una domanda e darti una risposta quello che posso dire io sarebbe carino da parte tua giosè murigno visto che sente il senato della roma non parlare più della roma oppure se devi fare interviste o rilasciare interviste contattare la roma perché poi la società è troppo buona perché la società si dovrebbe farlo del culo e magari farti anche scriverti anche qualche cosa perché ricordiamo murigno non si è dimesso non ha lasciato neanche un euro è un dipendente stipendiato dalla roma monologo terminato allora ragazzi alzo il black